Quello che vi abbiamo presentato è il meglio che possiamo fare. Non è perfetto, ma abbiamo ricevuto molti buoni suggerimenti. Dobbiamo aderire in conformità alle linee di condotta. Siete d'accordo che sarebbe meglio passare il tempo nella missione della Chiesa? Come abbiamo visto negli ultimi giorni. Per noi non è una grande gioia se ci focalizziamo sulla conformità. Vorrei indicare che la proposta aggiunge altri 11 mesi o quasi un anno per l'esecuzione, affinché le organizzazioni discutano e inizino a seguire le regole. Si è pensato a coloro che firmano il documento e poi decidono di essere non conformi. Questo richiede un altro anno. Quindi parliamo del 2019. Credo che la Chiesa è stata paziente e noi vogliamo risolvere la situazione. Ma una cosa è certa. Noi dobbiamo rispettare ciò che la Chiesa mondiale vota. E questa è la causa che ci ha portato a questo punto. questo richiede la conformità in tutte le aree di diversa categoria. Credetemi, l'ho detto al comitato l'altro giorno, dobbiamo assicurarci che le regole si seguano dove ora sono certamente ignorate. Noi non dobbiamo ignorare le raccomandazioni del GCAS. Dobbiamo seguire le regole. Non dobbiamo ignorare le raccomandazioni. Dobbiamo seguirle. Non dobbiamo ignorare gli altri aspetti delle regole soltanto perché non è conveniente. Un'organizzazione può sempre appellarsi al comitato per il controllo dell'unità per continuare il dialogo. E ovviamente questo avviene. Arriva il tempo in cui ci si deve pronunciare verso chi non segue le regole. Questo è il caso. E l'anno scorso abbiamo dato un altro anno di tempo. Quindi essenzialmente sono passati due anni dalla sessione plenaria della conferenza generale. Questa è la breve risposta. L'Unione danese sta ancora affrontando questo argomento sul modo in cui siamo non conformi. Noi crediamo di non essere non conformi. Stiamo solo commissionando i nostri pastori. La regola operativa è chiarissima sull'ordinazione dei ministri. Sulla licenza per i ministri, sui ministri commissionati. Se voi non seguite quelle linee di condotta, non state seguendo le regole. Justin, dall'Unione Asiatica del Pacifico del Sud. Quanti di voi sono genitori? Ora, come genitori, quanti di voi avete regole nelle vostre case? Bene, tutti quanti. Ma quanti di voi hanno il figlio o la figlia che ignorano le vostre regole? Non so voi, ma io ho un figlio. E non voglio che mio figlio scelga cosa obbedire. Alcuni giorni obbedisce ad alcune regole e altri giorni disubbedisce. Come uomini e donne aventisti, questa chiesa è la mia casa e lo è anche per migliaia di altre persone. Non sarebbe bello vivere in una casa dove c'è la struttura, l'ordine, si seguono le regole e c'è l'unità. Grazie. Un commento sulla firma del documento. Potete scegliere molti modi per identificare una non conformità, piuttosto che organizzare un comitato speciale che va in cerca degli individui e delle entità. Questo era stato suggerito per essere una procedura autonominata. Realmente, voglio essere onesto con voi. Quello che è stato firmato è quello che ci si aspetta da voi in ogni caso. Questo ci dà un semplice modo per vedere se la gente desidera veramente seguire quello che ci si aspetta da noi e quello che si trova nelle regole. Essenzialmente, le unioni fanno le raccomandazioni che ci vengono inviate dalle divisioni. L'unica cosa che è stata chiesta è che la stessa dichiarazione di adesione alle regole sia firmata individualmente in modo che nelle sessioni ci siano delle persone che seguono le regole. Tutto qua. Quando si affrontano delle decisioni, ci si deve chiedere qual è la domanda fondamentale che si sta affrontando. Se ora eravamo prima di Sant'Antonio, i miei pensieri sarebbero stati diversi. Ma abbiamo avuto un voto in sessione e quel voto governa i miei pensieri su quello che dirò ora. Come Chiesa, noi siamo collettivamente d'accordo di vivere in una certa struttura organizzativa. Quindi, per me, lo Spirito Santo guida la Chiesa in modo organizzato. Questo governa le mie decisioni in quest'area particolare. È la struttura organizzativa della Chiesa. Bene. Questo è esattamente ciò che stiamo cercando di fare per come presentare la missione. Chi di voi è stato qui con noi in questi giorni sa quanto sia importante per tutti noi. Noi vogliamo passare il tempo sulla missione, non sulla non conformità. Voglio ricordarvi, e purtroppo è un ricordo disgraziato, lo Spirito Santo ci tiene insieme. Siamo anche insieme grazie al rispetto e alla fiducia reciproche. Quando le organizzazioni non esprimono la fiducia collegiale, su cui si connettono le regole operative e i voti della Conferenza Generale in sessione, allora i vostri funzionari esecutivi della Conferenza Generale hanno un dubbio. Certamente non vogliamo passare il tempo in questo argomento, ma abbiamo una responsabilità, e quella responsabilità è di riportare la gente nella direzione che è stata votata. Quindi, e se avete un'idea migliore, e io sono a favore al 100% di pregare e operare assieme, essenzialmente questo problema continua da un bel po' di tempo. C'è anche una responsabilità da parte di quegli individui che devono capire che noi operiamo insieme come un gruppo. Il voto era chiaro, ma il voto non è stato seguito. Questa è la nostra sfida. Un piccolo commento. Il documento dice che chi non lo firma avrà i suoi privilegi sospesi. Non dice che sono rimossi dal comitato. E quando decidono di firmarlo, i loro privilegi sono ristorati. In un altro caso, vedete che se loro lo firmano, e poi fanno diversamente, inizia un processo so che cerca di riportare la riconciliazione. La Costituzione è chiara sulla rimozione. La Costituzione non affronta la sospensione dei privilegi. C'è una linea che è stata mostrata nel documento. Nel libro degli statuti e delle regole operative, è a pagina 33. Ed è anche mostrata nel nostro documento. è alla pagina 6, nel basso della pagina. Riguardo al comitato esecutivo, l'articolo è il numero 13, i numeri romani, che precede la sessione C, che parla delle giuste cause. Il punto B dice, Il comitato esecutivo della conferenza generale avrà il potere di garantire o ritirare le credenziali o le licenze di istruire i comitati, come il comitato amministrativo, con i loro termini di riferimento, di rivedere, cambiare e creare le regole operative, di approvare piani e programmi strategici per la Chiesa mondiale, di impiegare il personale necessario per eseguire efficacemente la sua opera e di prendere tutte le azioni necessarie non riservate, altrimenti per la conferenza generale in sessione, per assicurare l'effettivo funzionamento continuo della Chiesa mondiale di adempire la sua missione. È sotto questo piano che è stato offerto a questo gruppo di valutare il documento. Penso che tutti riconoscano che non ci sia alcuna Corte Suprema da interpellare per l'interpretazione della Costituzione, tranne che la conferenza generale in sessione, e che non c'è alcuna Corte Suprema a cui appellarsi, eccetto questo corpo tra le sessioni, per decidere quali sono le azioni necessarie, non altrimenti riservate per la conferenza generale in sessione, per assicurare il funzionamento continuo ed effettivo. Quindi questo corpo determinerà come desidera procedere e come interpretare quello che non c'è nella Costituzione. Ok, è proposto e accettato. Questo corpo deciderà se viola la Costituzione oppure no, perché veramente su questo argomento la Costituzione non dice nulla. Quindi questo è il corpo che può determinare se si desidera o no agire in un modo non specificato nella Costituzione. Signor Presidente, noi abbiamo discusso questo, come ha detto l'anziano Wilson, su questo la Costituzione non dice nulla e quindi non c'è alcuna Corte Suprema e l'ultima decisione spetterà a questo corpo. Tuttavia c'è una visione diversa su come questo documento è o non è in conflitto. Il modo in cui la nostra struttura è messa assieme e il modo in cui i nostri statuti sono messi insieme, quando la causa riguarda i diritti individuali, è il momento di usare il voto di maggioranza. Ecco perché ci vogliono i due terzi per scegliere due o tre minuti per parlare, o tre ore. Ecco perché tutto ciò che riguarda il diritto del corpo dei membri richiede i due terzi. Ironicamente, le nostre emozioni più importanti e le dottrine richiedono una semplice maggioranza. Se vogliamo votare un nuovo giorno di adorazione, questo richiede una semplice maggioranza, ma la gente ragionevole può avere visioni diverse e noi siamo in un terreno in esplorato. E sarà questo corpo a decidere come interpretare la sua stessa Costituzione. Doug Batchelor dalla Conferenza Generale Mi ricordo delle parole di Elia. Per quanto tempo non decideremo? Questa mozione di rimandare il documento ad un altro comitato sta allungando un processo molto doloroso. Come togliere una benda molto lentamente? Penso che la Chiesa Mondiale non possa sopportare di continuare ad avere questo handicap nella missione, perdendo tempo e risorse. Noi dobbiamo risolvere questa cosa. Alla Conferenza Generale abbiamo votato una regola per la Chiesa Mondiale. Ora abbiamo una proposta molto paziente per attuare la regola. Penso dovremmo avanzare con il documento. Per la mozione è richiesta la semplice maggioranza, per poter rimandare indietro il documento verso quel comitato. Qui stiamo cercando di fare qualche arrangiamento parlamentare. La decisione è che l'amendamento per la mozione non è ostile perché eventualmente ritornerebbe. Qui il comitato di sorveglianza per l'unità potrebbe riferire oggetti al comitato costituzione e statuti, perché molte parti del documento non riguardano la Costituzione. Alcune lo sono. Quindi decidiamo che l'ammendamento non è ostile. Il comitato da cui è originato, che lo ha elaborato, è il comitato di sorveglianza per l'unità. Non è stato creato da altre entità. È stato discusso al comitato di sorveglianza per l'unità. La Costituzione e la regola operativa sono molto chiare. Ognuno, ogni divisione, ogni unione, ognuno dovrebbe seguire le linee di condotta della Conferenza Generale e delle divisioni e le azioni della Conferenza Generale. Questo libro dice così, e anche all'inizio della Costituzione. Proprio all'inizio della Costituzione. Nell'articolo 3 dice, la Conferenza Generale esegue molta della sua opera attraverso le sue divisioni, che a loro volta comprendono le unioni in precise parti del mondo. Ogni divisione della Conferenza Generale è autorizzata a portare avanti le responsabilità nel territorio assegnatogli. Dovrà agire in piena armonia con la Conferenza Generale, che contiene le divisioni. E le divisioni contengono le unioni, e si parla delle unioni. Quindi, in essenza, queste agiranno in piena armonia con la Costituzione e gli statuti della Conferenza Generale, la regola operativa della Conferenza Generale e le azioni del Comitato Esecutivo. Poi dice, al fine di portare l'autorità della Conferenza Generale, le azioni del Comitato della divisione dovranno necessariamente essere in armonia con le decisioni della Conferenza Generale in sessione e le azioni del Comitato Esecutivo della Conferenza Generale tra le sessioni. Quindi, fratelli e sorelle, noi abbiamo un dubbio. E qui prendo un bel respiro. Capiamo che la gente non è a proprio agio nel firmare un documento, in tutta onestà. Essenzialmente, voi avete automaticamente firmato questo documento quando siete stati posti in questo Comitato. Questo è un fatto. Il problema è che lo avete firmato essenzialmente perché dovete seguire le linee di condotta e le azioni della Conferenza Generale in sessione. È semplicissimo. Non dobbiamo spiegarlo. Il problema è che ci sono persone che non seguono le regole. Come ci comportiamo con loro? Se non accettano quello che dice la sessione, come possiamo lavorare con loro? Questo è il nostro dubbio. Se il metodo propostovi non è quello che bisogna seguire, ne abbiamo chiesto un altro e non ne abbiamo ricevuto alcuno. Non va bene neppure il ritardo. Se ritardare significa non arrivare mai al rispetto delle regole, se ritardare significa risolvere i problemi e far tornare la gente nel rispetto delle regole. Ma il nostro dubbio è che abbiamo alcune unità che hanno semplicemente detto faremo le cose diversamente, le faremo come vogliamo noi. E questo non è conforme alle regole di condotta e non è neppure conforme con le azioni della Conferenza Generale in sessione. Quindi, indipendentemente da cosa siamo d'accordo oppure no, perché voi potete avere le vostre opinioni, nessun problema. Il problema è che dovete sottomettere le vostre opinioni. Anche io ho dovuto farlo. Ma sapete, va bene. Siamo parte di un gruppo e andiamo in questo modo. Cosa facciamo quando ci sono unioni che non vogliono seguire le regole? Tornando alla vostra domanda, le differenze tra i comitati, il comitato costituzionale e degli statuti non risolverà il problema che vi abbiamo presentato. Non lo farà. Magari quello che farà è dare qualche riflessione e suggerimento come l'aggiunta di qualche parola nelle regole, per poter affrontare in un certo modo i futuri problemi uguali a questi che stiamo vivendo ora. E si dovrà andare alla Conferenza Generale in sessione, se deve essere aggiunta nella Costituzione per essere implementata ed accettata. Quindi non ci aiuterà con niente che facciamo ora. Il comitato di sorveglianza per l'unità può vedere il vostro suggerimento o commento e provare a fare qualcosa di leggermente migliore. L'alternativa, e sono sincero, perché c'è un'altra alternativa, ma magari è più qualcosa di un qualche comitato punitivo che cerca le organizzazioni che non rispettano le regole. Poi dovete vedere quello che potete fare. Se aggiungiamo un comitato che cerca quelle unità, e ce ne sono alcune, possiamo nominarle, ma non lo faremo. Se volete cercare quelle unità dichiarando ufficialmente, voi non seguite le regole, noi possiamo avere un comitato per farlo. La grande domanda è, cosa farete dopo? Dichiarerete soltanto non seguite le regole? C'è una qualche punizione per non seguire le regole? Sì, le regole operative sono molto chiare su quelle che noi chiamiamo le opzioni nucleari o balistiche, ovvero degradare le unioni, da unioni della conferenza a unioni della missione, oppure sciogliere le unioni. Non abbiamo scelto di farlo, perché sarebbe una cosa estrema e difficile. Siamo sinceri con noi stessi. Questo porterà un'enorme quantità di tempo e sforzi, e questo porterà via uno sforzo ancora più grande alla missione. Quindi, il semplice problema che i vostri funzionari stanno affrontando, io lo sto affrontando, tutti i funzionari, non solo i tre funzionari esecutivi, tutti i funzionari della conferenza generale, e lo affrontate anche voi. Cosa fate quando un'organizzazione è così fuori dal rispetto delle regole che sono state indicate? Cosa fate? Veramente, la conferenza generale non ha molti strumenti per risolvere questo problema. Può sciogliere le unioni? Sì. Può rimuovere i funzionari? Deve farlo la costituenza? Se c'è una unione costituente o una conferenza costituente. Con le missioni avrete più flessibilità, ma la conferenza generale ha davvero poche scelte. È quello che vi è stato presentato, in parte, è un tentativo per provare ad aiutare in qualche modo per ritornare a seguire le regole. Riportare questo documento al Comitato Costituzione e Statuti non è di alcun aiuto con l'attuale situazione. Il corpo ha parlato e coloro che votano per riportare questo documento al Comitato di Sorveglianza per l'Unità sono 184 e gli opposti sono 114. Quindi questo documento e il modo in cui affronteremo questo problema in futuro tornerà a quel Comitato e certamente potrà interfacciarsi con coloro che vorranno provare a dare consiglio e guida. E con la grazia di Dio troveremo il modo per portare nuovamente qualcosa al Comitato esecutivo. Ma dovete capire che non tornerà prima. Voglio dire che non prevedo in alcun modo plausibile che il documento ritorni prima del prossimo consiglio annuale e ci incontreremo in Battle Creek e spero che a quel tempo avremo trovato una giusta via in modo da non consumare troppo tempo lì o in qualche modo creare un'atmosfera che ci porterà via dall'incredibile enfasi alla missione che vogliamo dare nel consiglio annuale del 2018. Chiuderò con una citazione da questo libro che avete. Questa è una stampa un po' diversa da quella che avete avuto voi. È una delle mie citazioni favorite presa dalle testimonianze, volume 9, pagina 19. In un senso particolare, gli avventisti del settimo giorno sono stati posti nel mondo come guardiani e portatori di luce. A loro e per tutti noi. e coloro che rappresentiamo. Tutti noi, più di 20 milioni di persone. È stato affidato l'ultimo avvertimento per un mondo che muore. Su di loro, voi e chi rappresentate, su di me e tutti noi, sta splendendo una splendida luce dalla parola di Dio. Questo è più che un significato simbolico, la parola di Dio, che è così centrale, fedeli alla sua parola e il nostro tema. Sta portando una concentrazione speciale sul popolo di Dio. È stata data loro un'opera dell'importanza più solenne, la proclamazione del primo, secondo e del terzo messaggio degli angeli. Non c'è altra opera di così grande importanza. E qual è il centro del primo, del secondo e del terzo messaggio degli angeli? Cristo e la sua giustizia. Opposto alle opere. Opposto ai metodi alternativi. Essenzialmente, proprio la base della riforma protestante, focalizzata sul messaggio dei tre angeli, per lo meno come lo avevano capito a quei tempi. L'ultima frase. Non devono permettere che nient'altro assorba la loro attenzione. Ridedichiamoci alla grande proclamazione che Dio intende fare con questa Chiesa. Se volete dedicarvi in questo, volete alzarvi assieme a me? Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni.